Benvenuti a Scatici24 Economia, bocciate in finanza il nostro titolo perché è descrittivo. Gli italiani si confermano nell'ultima ricerca pubblicata pochi giorni fa dalla Consob, un popolo con una scarsa educazione finanziaria, quasi la metà degli italiani, ha difficoltà a spiegare che cosa sono concetti semplici relativamente come l'inflazione o i tassi di interesse. Non parliamo poi di differenza tra azioni e obbligazioni, rapporto rischio-rendimento. Insomma è come andare un po' di notte. È il paradosso di un paese che ha un tasso di risparmio altissimo, non il più alto del mondo, non è vero che siamo i più grandi risparmiatori del mondo, però insomma il tasso è alto. È una cultura finanziaria però che spesso ci fa stare sullo stesso livello con paesi con cui di norma non ci confrontiamo. Parliamo di questo per capire quanto tutto ciò è normale o anormale, quanto si può sperare di migliorare, quanto incide poi nelle tasche degli italiani, nel senso che si perdono dei soldi perché non si sapeva bene dove si era messi. Qui in studio con me Giovanna Boggiorobutti che è direttore generale del FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e del Risparmio. Benvenuta. Che è una fondazione che è stata costituita su iniziativa dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Saluto collegato con noi da Milano Marcogliera, fondatore di Uinvest. Benvenuto. Grazie Alessandro, saluti a tutti. È collegata con noi telefonicamente Emanuela Rinaldi che è docente di Sociologia all'Università di Udine e che da anni si occupa del rapporto tra scuola ed educazione finanziaria e dell'inclusione degli alunni stranieri in Italia. In questo caso naturalmente ci occupiamo di più della questione finanziaria. Benvenuta Rinaldi. Grazie, buonasera a tutti. Autrice anche di Libi proprio su questo argomento. Il prossimo Rinaldi riguarda donne e uomini nell'approccio finanziario, corretto? Donne e benessere finanziario, sì. Magari parleremo anche di questo che è una tematica naturalmente anch'essa intrigante. Intanto cominciamo col vedere, con Silvia Monsagrati, quali sono i numeri di cui parliamo? Cioè quali sono questi tassi di cosiddetto analfabetismo finanziario che abbiamo nel nostro paese? C'è stato un momento in cui i termini finanziari strettamente tecnici sono usciti dalla loro nicchia per arrivare sulle bocche di tutti. Spread, debito pubblico, deflazione, deficit. Gli anni della crisi hanno sdoganato quello che fino al giorno prima era un gergo per esperti. Ma il rapido e forse temporaneo successo di questi termini, fino a quel momento oscuri ai più, non sembra aver aiutato le nostre conoscenze finanziarie. Dice l'ultimo rapporto della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie che solo il 40% degli italiani sa definire in modo corretto concetti finanziari di base come l'inflazione o si rende conto della relazione tra rischio e rendimento, cioè del fatto che più un prodotto finanziario fa guadagnare, più fa correre dei rischi ai nostri soldi. Il 20% degli intervistati invece dichiara di non avere familiarità con alcuno strumento finanziario. Quasi il 50% poi non sa indicare le principali caratteristiche di azioni e obbligazioni e solo il 6% degli italiani comprende cosa significa diversificare il portafoglio, nozione che dovrebbe essere fondamentale per chiunque voglia investire, visto che mettere i soldi su diversi prodotti riduce i rischi di perdite. Nonostante questo continuiamo a investire anche se un po' meno rispetto a prima della crisi, ma ormai stiamo tornando sui livelli del 2007. Un italiano su quattro decide dove mettere i soldi senza consultare nessuno e quasi quattro su dieci decidono dopo aver sentito parenti o amici. Meno del 40% si affida a un esperto, ma chi lo fa ne segue i consigli nella stragrande maggioranza dei casi. Anche se oltre la metà degli italiani preferisce la liquidità e i suoi soldi ritiene su depositi bancari o postali, tra i prodotti finanziari preferiti dalle famiglie, in testa ci sono le obbligazioni bancarie. E viste le nuove regole europee sui salvataggi degli istituti di credito e quello che è successo di recente ad alcune nostre banche, anche questo dato inviterebbe a trovare un modo per migliorare l'educazione finanziaria degli italiani. Silvia Monzagrati, SCATG24. Allora, Boggio Robutti, io comincerei con una domanda quasi in contropelo rispetto al tema che stiamo trattando, cioè quando tutto ciò è normale o no? Mi spiego, è ovvio che ci si auspica che migliori questo tasso di competenza anche sulle definizioni di base dell'economia e della finanza, però non è che si può immaginare che tutti sappiano tutto, perché la gente ha anche altre cose da fare, oltre che a leggere e a informarsi sulle questioni finanziarie. Cioè, non è che si esagera un po' a pretendere che tutti sappiano la differenza tra un BOT e un CCT o cose del genere? Noi partiamo come fondazione da un approccio che infatti è un po' diverso, dovendo peraltro riconoscere che la materia economica e finanziaria è effettivamente complessa. Quindi il lavoro che cerchiamo di fare noi come fondazione è proprio quello di spiegare agli italiani e cercare di farlo nei fatti, di facilitare la nascita di una nuova cultura, un nuovo atteggiamento mentale che comincia a considerare l'economia e la finanza non più come una materia difficile da esperti e che quindi nessuno affronta perché parte dal presupposto che non la capisce, ma come una questione che va affrontata nella vita quotidiana e che diventa un elemento di consapevolezza che i cittadini devono avere e quindi devono cominciare a procurarsi gli strumenti. Quanto ci vuole? Generazioni? Ci vogliono generazioni ed ecco perché noi partiamo dalle scuole molto banalmente. Però è un vasto programma come si dice. Molto vasto. Diciamo che se ne parlerà di risultati forse tra un po' di tempo. Marco Liera, naturalmente gli italiani hanno il loro grado di competenza, hanno i loro soldi, molti non li hanno e da investire, ricordiamocelo sempre, la metà degli italiani non ha risparmi da investire. Quelli che li hanno li mettono da qualche parte e spesso appunto si rivolgono a prodotti, banche, assicurazioni e quant'altro. Liera, la domanda proprio brutale. Se io sono un macellaio, mi conviene di più che i miei clienti non sappiano un fico secco di carne o mi conviene che siano molto esperti e sappiano bene le differenze? Cioè per chi vende i prodotti di risparmio? Quanto conviene o no il fatto che il pubblico sia poco esperto? Se si tratta di intermediari finanziari lungimiranti c'è un interesse da parte dell'offerta che la domanda, quindi i risparmiatori siano più informati. Certo che se ci sono in giro degli atteggiamenti predatori è chiaro che l'interesse dell'offerta è quello che i risparmiatori... E ci sono in giro gli interessi predatori in senso molto lato, anche se sono un po' furbeschi? Più che predatori diciamo che sono interessi di breve periodo, quindi che mirano a realizzare realizzare facili profitti che contano anche su una sostanziale impunità. Noi oggi abbiamo visto recenti episodi di danneggiamento diffuso del risparmio dei cittadini. Io ricordo che adesso io faccio l'imprenditore e mi occupo di formazione finanziaria, professionisti e risparmiatori, ma io sono arrivato alla redazione del Sole 24 Ore quando facevo il giornalista all'inizio degli anni 90 e già all'epoca uno dei primi temi di cui mi occupai erano i crack finanziari degli anni 80, arrivai a calcolare circa 5 mila miliardi di vecchie lire che oggi sarebbero più di 4 miliardi di euro di danni alla collettività comportati già a quei tempi. Da allora quello che abbiamo visto è che questi episodi sono diventati ripetuti, ce ne sono stati tanti altri, anche i più recenti li abbiamo visti e vediamo che continua a esserci come dicevo prima una notevole impunità dei responsabili. Un po' questo accade in tutto il mondo perché questi reatti dei colletti bianchi sono difficili da provare, difficili da perseguire. Però il fatto che i clienti siano meno informati aiuta perché naturalmente abbassa le dipesi... Come dicevo prima, se la clientela è disinformata si trova a terreno fertile. Il guaio è che in tutti questi anni, ripeto io sono più di 20 anni che mi occupo di educazione finanziaria, non pare che ci sia stato un miglioramento. Nonostante il fatto che abbiamo sentito prima la testimonianza di Giovanna Boggio Rubuti, anche noi abbiamo fatto educazione nelle scuole. Sicuramente uno sforzo c'è stato, però non vorrei che l'educazione finanziaria, che comunque va fatta perché non ha controindicazioni di fatto, però non vorrei che fosse una specie di fallimento di mercato, ossia tutti ne sentono il bisogno a livello collettivo, a livello individuale un po' meno. Ma poi dopo è difficile trovare le risorse per finanziarla e poi i risultati sono difficili da conseguire nel breve periodo, cioè bisogna avere molta costanza. È quello che diciamo prima che servono tempi piuttosto lunghi. A proposito di crack finanziari o comunque perdite per i risparmiatori, ci ha raggiunto collegato con noi da Vicenza, Sereno Sossella, imprenditore orafo, che nella vicenda che conosciamo della Popolare di Vicenza ha perso 160 mila euro tra i soldi privati suoi e quelli dell'azienda. Benvenuto Sossella. Salve. Allora Sossella io le faccio una domanda che magari sembra anche un po' brutta. Per questa sua proprio disavventura finanziaria, questi soldi che ha perso, quanta responsabilità le dà anche a se stesso, cioè nel senso quanto lei dice a se l'avessi saputo, se avessi visto meglio cosa stavo facendo, oppure non c'è questa sua responsabilità secondo lei? La nostra responsabilità è zero, perché il rapporto con la banca è un rapporto di fiducia ed è un rapporto che si sta ora nel tempo, anno per anno, per cui è il funzionario che viene in azienda da noi e si presenta e un po' alla volta costruisce un rapporto che è di fiducia, per cui nel momento in cui ti fidi di lui, ti fidi di quello che ti propone. E poi col senno del poi è evidente che era stato caricato come una molletta dei soldatini, gli fanno il lavaggio del cervello, vengono qui, ti spiattellano quattro belle parole, in fiducia tu vai avanti e poi ti ritrovi da 100 a zero. Ma lei non ha mai sentito il bisogno di sentire un'altra campana? Cioè di dire io ho questi soldi, questa persona, di cui anche ripido, mi racconta questo, non sarà vero. Abbiamo diversificato per fortuna, per cui se noi avessimo investito tutti i nostri capitali solo in azione della Banca Popolare oggi dovremmo chiudere, per fortuna negli anni abbiamo diversificato. Ciò non toglie che comunque quando hanno fatto questa operazione e le hanno proposte erano ben consci che stavano truffando tutta la comunità, perché qui a Vicenza più del 50% delle persone avevano azioni della Banca Popolare, c'era il medico, il parroco e la Banca Popolare, per cui è inutile che ci raccontiamo la storia... Quindi lei dice c'era un rapporto fiduciario proprio con il territorio che era stato... Non sono mai stati cotati in borsa, ci hanno marciato sopra sulla fiducia, perché qui è questione di fiducia, è inutile che lo chiamiamo bot CCT o quello che vuole. Però Sossella, mi permetta solo un'ultima domanda, poi sentiamo anche Emanuele Rinaldi. Lei il fatto di avere molti soldi, non tutti, perché lei ha detto diversificato, investiti in un titolo azionario non quotato in borsa, non le ha mai provocato del disagio a pensare? Ma com'è sta cosa? Non è quotato? Mi dava più sicurezza, perché la lettura dei bilanci, le assemblee che faceva la banca annualmente e quant'altro, erano rassicurazioni in continuazione. E lei li leggeva questi documenti di bilancio? Lei si informava? Certamente sì, ed erano sempre in miglioramento, i conti erano gonfiati, ma io mi chiedo, questo miliardo e mezzo di persone che avevano pagate, che cosa hanno controllato? Il Consiglio di amministrazione? E gli organi di vigilanza, e tutta la vicenda che abbiamo descritto. La fermo Sossella perché vorrei andare da Emanuela Rinaldi, perché quello che abbiamo sentito, Rinaldi, sia da Boggiorobutti che da Liera, che da Sossella hanno fatto un po' il quadro di quello che è il problema. Ad esempio, Sossella dice, io sapevo cosa stavo comprando, mi leggevo pure i bilanci, ma c'era un rapporto fiduciario. I bilanci pensavamo fossero a posto, gli organi di vigilanza non ci dicevano niente. Insomma, quando lei scrive un libro che si chiama Educare alla finanza, è una questione sociologica e anche questo, cioè fiducia nei territori, problemi molto più vasti di quello che semplicemente mettere i soldi e non ritrovasseli. Esattamente così, perché esiste un'altra forma di capitale molto importante in sociologia, oltre al capitale economico che al capitale sociale, ovvero la fiducia. E quindi è una moneta che a volte vale molto di più rispetto alla lettura dei documenti che può o meno dare degli indicatori di natura finanziaria. Per cui, quando Sossella dice, io mi fidavo e pensavo di aver diversificato bene anche la mia fiducia, agisce come un consumatore razionale da un punto di vista sociologico, ma è una fiducia tradita. Allora, Boggioro Butti, dove ha sbagliato Sossella? Perché lui dice, io sapevo che titolo era, sapevo che non era quotata, però mi leggevi i bilanci e vedevo che doveva andare bene. C'erano i rapporti fiduciari, appunto. Quando si tratta di casi del genere, non regge più nemmeno l'educazione finanziaria, cioè lì si parla di cose che trascendono, cioè sono due temi diversi ma uguali, nel senso che poi vatti a fidare se succedono anche queste cose, e questo mina profondissimamente la cultura del risparmio. Io temo che sia davvero un caso purtroppo limite, molto grave. Un limite ma non unico, perché abbiamo visto, ricordava l'Iera. Non unico, però ecco, l'educazione finanziaria lì purtroppo temo che possa far poco. Il signore mi sembra una persona estremamente cauta, razionale, come ha detto anche Emanuela. Quindi l'educazione finanziaria non può sicuramente essere una soluzione a problemi di questo tipo. Ricordo solo una cosa, e non è il caso di questa persona. Molto spesso, quando si vanno a scegliere prodotti che riguardano i propri soldi, che sono comunque un bene materiale ma fondamentale per il benessere di tutti, non si fa la stessa attenzione o gli stessi confronti o gli stessi approfondimenti che si fanno per l'acquisto di prodotti enormemente meno rilevanti. Quindi è una questione di approccio mentale. Non è questo il caso. La vorrei tradurre in un modo grossolano, ma allora, capita che una famiglia ci metta molto più tempo a scegliere se deve comprare una pentola a pressione, a confrontare tutte le varie cose, che quando fa un mutuo, che magari impegna per 30 anni, dove magari va dal primo che trova. Adesso però un po' meno, vero? C'è una più diffusa sensibilità anche nel confrontare, oppure siamo ancora indietro? Allora, io credo che comincia a nascere la sensibilità. Dipende tanto dalla fascia anche socioculturale delle persone. Ci sono livelli del Paese che sono ancora molto indietro e vanno aiutati. Le ricordo un altro caso, che non è quello del risparmio dell'investimento. È quello, per esempio, dell'acquisto dei beni a credito, delle rate. Ci sono persone che non riescono a rendersi conto che se comprano 10 oggetti facendo, aprendo una linea di debito da 50 euro al mese, poi vanno sommati. Ci sono famiglie che non sono in grado di fare questo tipo di calcoli, perché magari non sono nemmeno abituati a gestire un bilancio familiare, quindi una pianificazione. I livelli dell'educazione finanziaria sono molteplici e veramente cambiano a seconda del tipo di persone e anche del livello culturale. Abbiamo visto che naturalmente non è un problema solo l'italiano. Ricordiamo la faccenda dei muti subprime, in cui è vero che ci furono negli Stati Uniti quando scoppiò la crisi dei muti dati a persone che non potevano pagarli, ma spesso era evidentissimo che non potevano pagarli. Doveva essere evidente anche alle persone stesse. Invece, naturalmente, sono cose che a volte sfuggono, la progressione degli interessi, come possono cambiare le rate. lì c'è anche un problema, possiamo dire, culturale. Quando si ha a che fare con i soldi, tendiamo a essere molto più, come dire, sospettosi del parlarne con gli altri. Ormai non ci sono quasi più tabù, si parla di tutto, però i propri soldi spesso ce li curiamo da noi, o al massimo con l'intermediario, con la banca. Magari se si parlasse un po' di più anche degli investimenti, dei soldi dove uno li ha messi, sarebbe meglio, perché abbiamo visto tante storie in cui la prima cosa che pensi, ma mannaggia, l'avesse saputo qualcuno, un parente, qualcuno con un minimo di competenze in più, avrebbe evitato di perdere i soldi. Sì, in effetti c'è un'educazione formale alle scelte finanziarie, di cui abbiamo parlato. Si può fare molto in questo ambito, sia gli intermediari finanziari più lungimiranti, anche tramite le associazioni di categoria, la scuola, certamente, tra parentesi, bisogna, come dicevo prima, trovare le risorse per fare tutto. Anche il tempo, perché lì era, diciamo, serve l'educazione finanziaria, ma serve anche quella alimentare, ma serve anche l'educazione sessuale, ma serve anche l'educazione per il web. E diciamo che questo, come ha evidenziato, non sono argomenti particolarmente eccitanti. Voi siete assolutamente meritevoli, Alessandro, nell'azione che state facendo, ma è chiaro che i risparmiatori, i cittadini, comunque si interessano di più gli altri argomenti. Il mercato del risparmio è un mercato dominato dall'offerta, ossia non ci sono mai le code fuori dalle banche come fuori dai negozi Apple per comprare l'iPhone appena uscito, che bivaccano fuori. Cioè è un mercato in cui, se non è qualcuno dell'offerta che propone, difficilmente il risparmiatore per i fatti suoi va a chiedere un fondo comune, una polizza vita, un titolo di Stato. Quindi è un settore completamente diverso dagli altri dell'economia e come testimonia la ricerca Consob dominata da forti distorsioni cognitive. Per questo io, come dicevo prima, sottolineo il fatto che oltre a un'educazione formale, che sicuramente va fatta perché praticamente non ha grandi controindicazioni, dobbiamo anche rassegnarci a una educazione empirica, ossia al fare degli errori. Purtroppo l'esperienza del signor Sossella ci testimonia che questi errori possono essere anche pesanti, ma non per consolarlo, d'altra parte lui stesso l'ha detto, ci sono altri clienti della Popolare di Vicenza che hanno perso molto di più in relazione al patrimonio. Quindi questo provare e fare degli errori, possibilmente di limitate dimensioni, è uno dei modi con i quali in questi settori dominati dalle distorsioni cognitive si può veramente migliorare. Ossia la speranza è che i risparmiatori che hanno subito delle perdite inattese in futuro siano più cauti e magari all'interno... Allora andiamo da un risparmiatore... ...in propri esnici, propri familiari, ad assumere comportamenti virtuosi, a non rifare gli interessi errori. Allora sentiamolo il risparmiatore che ha subito le perdite. Sossella, lei dopo questo infortunio di risparmio, come ha cambiato il suo rapporto con i soldi, con i risparmi e cosa consiglierebbe a chi magari appunto si fida tanti anni delle stesse persone che quasi sempre sono in buonissima fede, anche competenti, ci mancherebbe. Tutto quello che ho sentito sino adesso sono tutte belle parole, ma nei fatti, più di analizzare la banca, di analizzare i bilanci, di guardare quello che c'è scritto, di essere certificati e tutto quello che ci va dito, cosa potevamo fare di più? Tutto l'altro patrimonio era investito in obbligazioni e quant'altro dove non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Il problema l'abbiamo avuto in quello che invece consideravamo il più sicuro. Che lei considerava l'investimento più sicuro? Non potevamo fare diversamente. Ci sono amici che hanno perso un milione, due milioni, tre milioni di euro e vogliono suicidarsi. Certamente qualcosa di grave accadrà qui a Vicenza. Però Sossella... c'è un imbominismo totale e la gente è stanca, non ne può più. Hanno rubato a chi aveva 5 mila euro di azioni. Ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? C'è il caso che abbiamo... Parliamo di educazione, tutto quello che è stato detto sono belle parole, ma i fatti sono diversi. Qui c'è un falso che parte 30 anni fa ed è continuato in continuazione e nessuno ha mai fatto nulla. Le istituzioni, i politici, ci mangiavano tutti. Io se tornassi indietro rifarei lo stesso errore. Perché? Perché se i bilanci sono a posto, le verifiche sono a posto, i controllori sono a posto, i revisori sono a posto, 50, 60, 70, 80 persone hanno certificato questi bilanci, cosa posso fare di più? Mi fiderei? Rifarei lo stesso errore. È logico. Perché? Perché la banca formalmente era a posto. Invece sotto c'era il voto più assoluto. Dove sono andate a finire questi soldi? Ma lei ha detto che il titolo più sicuro per lei era un titolo azionario. Non è un po' una stranezza però questo? Perché sappiamo che l'azione ha un livello di rischio più alto. Era un titolo azionario non quotato. Per cui, se andiamo a prendere lo storico di questo titolo, in 30 anni ha continuato lentamente sempre a salire. Perché? Perché hanno imbrogliato le carte. Per cui era un titolo azionario ma non quotato in borsa. Ed è una differenza sostanziale tra essere quotati in borsa e no. Perché questo lentamente continuava a crescere. Ma era gonfiato dall'interno. E allora, in chiusura vorrei chiedere, visto che il tema è molto complesso che ci vuole moltissimo tempo anche solo per affrontarlo. Sì, è complicatissimo. Vorrei chiedere a Emanuele Arinaldi se si dovesse dare proprio un consiglio uno. Cioè, se una persona si ritiene, si reputa poco esperta, proprio il più banale che le viene in mente. Diversificare le persone a cui chiede consiglio o fonti che consulta per fare le sue scelte finanziarie. Quindi, sentire tante campane. Naturalmente, questa è la saggezza popolare che anche in questo caso si rivela essere tutt'altro che disprezzabile in casi come questo. Il tema è finito la nostra risoluzione e ringrazio che sono stati con un'ordineato alla televisione.